Dal Vangelo secondo Matteo Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente, a Gerusalemme, e dicevano «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». Ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Adorare e incontrare Gesù senza la lista di richieste, ma con l'unica richiesta di stare con Lui e scoprire che la gioia e la pace crescono con la lode e il rendimento di grazie. Adorare è un gesto di amore che cambia la vita e fa come i magi. E portare al Signore l'oro per dirgli che niente è più prezioso di Lui. E offrirgli l'incenso per dirgli che solo con Lui la nostra vita si eleva verso l'alto. e presentargli la mirra con cui si ungevano i corpi feriti e straziati per promettere a Gesù di soccorrere il nostro prossimo emarginato e sofferente, perché lì c'è Lui. e lì c'è Lui.